Ciao a tutti quanti ragazzi ed eccomi qua per una motivazione molto importante Oggi compio i miei 18 anni Yeah! Yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Yeah! E ok volevo avvisarvelo perché per me è una grande cosa ovviamente come tutti quelli che raggiungono questo potentissimo obiettivo Accimilmente sbloccato ok basta farlo stupidi E così tanto tanto fare questo piccolo video più che altro per ricordo personale non per una motivazione molto particolare Beh spero che questa musichetta in sottofondo anche vi piaccia Un'idea di Frank cioè mi ha fatto venire l'idea mettere questa musichetta in sottofondo perché è bellissima Beh che dire non cambierà niente da anche se io ho la maggiore età a parte che potete denunciarmi Farmi finire in galera e tutto quello che volete Ok dai adesso facciamo un po' di serietà Non è che vi chiedo proprio un regalo Più che altro Una cortesia se riuscite uno che è bravo con la grafica A farmi qualche nuovo avatar per il canale o anche qualche background O anche un intro insomma non è che vi chiedo proprio Potete farmi questo Se qualcuno di voi ha un po' di tempo da sprecare e fare qualche lavorino Sarebbe molto... come posso dire Mi piacerebbe molto che potesse perdere quei dieci minuti per riuscire a farmi qualche bella immagine Qualche bel background o qualche nuova bella intro Perché ne dà prezzo quelle piccole cosette Infatti adesso notate che sono anche molto più serio rispetto al solito Come faccio i video, faccio lo stupido, compagnia bella Comunque sì, quest'oggi mi divertirò Mi divertirò molto Soprattutto domani insieme ai miei amici E quindi inizierò a prendere le responsabilità Dovrò iniziare a firmare tutte le carte Il mio primo traguardo che dovrà essere 18 Riuscite a finire di prendere quella fortissima patente Yeah Voglio vedere la mia bellissima auto Bellissima Nuova però è bella, è bella Perché è curioso, dico subito, è una Toyota iGo Piccola però è sempre una bell'auto Sii sentito? No, è che non tanto il microfono, ma lo ripeto Toyota iGo, è la mia auto Molto piccola ma molto carina Simpatica Con il 313 dietro come targa Sono l'auto di Paperino Vabbè, dettagli Eh, che altro dire ragazzi Anche se ho raggiunto la migliorità Rimano sempre con voi a fare i miei video Perché so che molti di voi mi seguono Perché mi trovano molto simpatico Stupido per un certo punto di vista E continuerò ad avere il mio atteggiamento particolare Con il modo di fare i video Perché è proprio una parte mia personale Che non potrei sfogare nel mondo normale Ma questo è un modo di sfogare Questa è un PH Piccola parte divertente Comunque io ho concluso E così da dire Quindi vi lascio E ci sentiamo con i nuovi video Let's play Tutto quanto quello che farò Quindi la parte serie di Andrea Svanisce e si torna alla normalità Ciao a tutti quanti iscrittivi Ringrazio tutti e ciao ciao Ringrazio tutti e ciao